Ciao, benvenuti a What's Anna, la rubrica dei consigli per le ragazze toste. Ogni giorno abbiamo a che fare con ragazzi maturi, amiche inaffidabili, adulti responsabili. Ma per fortuna tutte noi abbiamo un superpotere, il Girl Power, che io vi insegnerò come usarlo. Oggi mi ha scritto... Vivien. Ciao Anna, a Vivien piace la tua rubrica. Quello che non le piace è la tua maglietta. Per caso ti vesti a occhi chiusi? Ok, a tu ti è capitato di essere presi in giro dalla ragazza più popolare della scuola? Niente panico, ci sono diversi modi per affrontare la situazione. Soluzione numero uno. Fai finta di niente, vai dritta per la tua strada e ricorda che la cosa più bella che una ragazza può indossare è il suo sorriso. A Vivien non piacciono le tue scarpe. Sai con cosa stanno bene le mie scarpe? Col mio sorriso. Non è vero? Stanno malissimo con il giallo. Giallo? Così poco cool. Come giallo? Ma non è giallo! Metodo numero due. Nasconditi. Non fatti vedere. Non fatti riconoscere. Ciao Anna. Come fate a riconoscermi? Viviene dall'altra parte. Come fate a riconoscermi? Cara, solo tu potevi metterti un sacchetto giallo con una maglietta a righe. Vivien ti lascia solo per il tuo imbarazzo. Ciao! Ma non è giusto! Dove vai? La verità è che quelli come Vivien troveranno sempre qualcosa da ridire. Ma che alger power se ne frega dell'opinione degli altri. Non importa come vi vestite. Se vi sentite belle, siete belle. Bene tipe toste, anche questa puntata è conclusa. Oh, un messaggio di Vivien. Forse vuole chiedere scusa. Anna, le tue parole sono state bellissime. Il problema sono i tuoi pantaloni. Hashtag inguardabili. Sai cosa ti dico Vivien? Non mi importa cosa pensi. Io mi vedo bella così, con questi pantaloni. Scusa Anna, Vivien si sbogliava. Viste come si fa? Non devi comprare dei pantaloni? Devi comprare degli occhiali? Per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio di What's Anna. E ricordate sempre di accendere il vostro superpotere. Get power on! E ricordate sempre di accendere il vostro superpotere.